Nuova bonifica per Palazzo Mazzara che resta in balia dei volatili. Con ordinanza depositata l'altro giorno, il Tribunale di Sulmona ha accolto il reclamo sulle spese presentato dall'Avvocato Vincenzo Colaiacovo, condannando il Comune di Sulmona al pagamento delle competenze della fase monocratica e della fase collegiale, mentre ha ritenuto di non dover applicare la sanzione del pagamento di una somma per ogni giorno di ritardo, avendo il Comune in parte riempiuto alle opere di pulizia dei locali di sua proprietà. In sostanza, anche in presenza di una pretesa assolutamente legittima dell'istante, il Tribunale